salute a tutti il mio nome è il mattia prometeo e benvenuti in questo mio nuovo vlog volevo condividere con tutti l'inverno più caldo che mi ricordi non c'è una nuvola in cielo c'è un sole da abbronzarsi come infatti sto facendo il giardino che non c'è è come se fosse in primavera e mi ricordo che pure l'anno scorso ha fatto così caldo ma non così caldo io già l'anno scorso domavo il camino e adesso ho raccolto la legna l'ho messa dentro casa anzi scusate l'ho entrata e sta lì e non faccio il fuoco fa troppo caldo uso non uso neanche il piumone sono con una copertina del cavolo e poi la gente dice che il cambiamento climatico non esiste nel 2020 ancora con questa storia che il cambiamento climatico non esiste ma poteva avere senso sparare questa cazzata negli anni 70 ma nel 2020 che non si capisce più niente veramente nel 2021 adesso e qualche anno fa a reggio calabria diciamo due anni fa appunto e faceva molto più freddo nevicò sulla costa cioè è arrivata la neve sulla costa sulla spiaggia e si è depositata sulla spiaggia era nevischio non era niente capace di imbiancare ma già il fatto di avere un millimetro di neve sopra le automobili beh è una cosa c'era ancora mia zia gianna buonanima la povera zia gianna zia gianna ci ha lasciato alla veneranda età di 100 anni e 6 mesi circa e io le chiesi perché qualche anno fa era ancora viva io le chiesi zia ma insomma ti ricordi di un inverno in cui ha nevicato qua a reggio perché insomma se uno non queste cose non le chiede alla zia che ha 100 anni a chi accidenti le dovrebbe chiedere ed ecco lei mi disse no non mi ricordo e zia gianna ha avuto una mentalità perfetta fino agli ultimi istanti della vita perfettamente lucida insomma ci si poteva proprio fidare non ha avuto attacchi di senilità fino agli ultimi mesi e quindi insomma appunto una testimonianza storica in prima persona che effettivamente il cambiamento climatico c'è stato due anni fa ha fatto un freddo assurdo poi non è piovuto per cinque mesi quest'anno invece ogni mese d'estate alla prima settimana un giorno e mezzo di pioggia costante miracoloso perché quando non piove d'estate io qua faccio la danza della pioggia e non sono manco bravo e adesso abbiamo un inverno così caldo che praticamente io sono con la maglietta e una felpetta e ancora c'è chi dice il cambiamento climatico non esiste non riesco neanche a tenere gli occhi aperti annaggia neanche provavo e quindi insomma nei cari psicocriminali grazie per la vostra attenzione grazie per questo affettuosissimo volersi fare i cazzi miei che in realtà mi fa molto piacere perché io sono io sono un classico profeta vivo da eremita in mezzo al mondo ma è da eremita sono bravo con le lingue o la barba lunga sono mediterranea e come ogni profeta attacco il sistema e rompi i coglioni quindi insomma già soltanto vedere più di dieci views su un vlog è incredibile per me incredibile cioè neanche mia madre si vuole fare i cazzi miei quindi che ci sia altra persone ci siano altre persone se strano fa strano grazie e quindi vi auguro il meglio è solo il meglio e domani domani esce una nuova puntata di distruggere il sistema come è fatto il sistema gli strati del sistema i livelli del sistema come si configura il sistema no non è una guida tech per tecnici è una guida per meglio capire che cosa si sta affrontando l'impero romano era una cosa semplice sistema occidentale è complesso è proprio complesso è fatto di una parte reale è una parte immaginaria per chi sa di cosa sto parlando gli ingegneri non sanno di cosa sto parlando gli ingegneri escono da ingegneria e neanche si ricordano come si calcola la radice di meno uno lasciamo stare quindi un caro saluto in verità a tutti gli psico criminali a tutti i guerrieri di luce a tutti gli artisti gli incantatori a tutti i risvegliati di nuovo vi auguro il meglio è solo il meglio